Ciao a tutte ragazze, eccomi finalmente tornata con un altro video e oggi ho deciso di fare per voi un makeup tutorial anche se in realtà non l'ho proprio deciso io ma l'avete deciso voi perché ho fatto un sondaggio su Instagram il mio profilo ve lo lascio qua sotto nell'info box, anzi se riesco ve lo scrivo anche qui da qualche parte e niente, avete deciso voi appunto che volevate vedere un makeup quindi ecco qui a realizzarlo per voi come al solito ormai mi vedete sempre in una location diversa della mia camera adesso ho deciso di adottare questo sfondo fatemi sapere se vi piace e l'ho composto con queste foto qui che mi ha inviato Lala Lab è stata veramente gentilissima e mi ha dato anche un codice sconto per voi che sempre vi scrivo qua che sarebbe Lala Joel Simeone vabbè comunque ve lo scrivo ed è un codice sconto del 30% però dura solamente 3 mesi e penso sia passato già un mese anche se io ve l'avevo detto nelle serie di Instagram per chi mi segue in ogni caso utilizzatelo cercate magari di non arrivare alla scadenza dei 3 mesi perché se volete proprio prendere le foto prendetelo in questo mese o un mese e mezzo perché poi non so esattamente il giorno in cui scade in ogni caso sono stati veramente gentilissimi io ho ordinato le foto sabato mattina e mi sono arrivate o lunedì pomeriggio o martedì mattina veramente una cosa cioè veloci 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 e poi le foto sono carinissime adesso vi faccio anche un close up questo angolo mi piaceva non solo per le foto ma anche per la candelina per la pianta i cactus il mio salvadanaio a forma di ananas veramente mi piace tantissimo questo piccolo angolo quindi fatemi sapere se anche a voi piace o se preferite il solito sfondo magari colorato con un cartoncino dietro quindi uno sfondo colorato e io che faccio un make up a tema del colore dello sfondo non mi voglio troppo dilungare con queste chiacchiere quindi vi lascio subito al make up e niente un bacio ciao 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 Grazie a tutti